Sono in tutto oltre 600 le persone denunciate nel territorio aretino per essere state trovate fuori senza un valido motivo. Dal 25 marzo, come recita il DPCM firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, saranno chiusi anche le attività produttive non considerate essenziali e quindi la stretta sarà maggiore. Ci sono poi controlli anche all'interno di quegli esercizi che possono rimanere aperti. Un esercizio commerciale è stato chiuso per 10 giorni perché il titolare non garantiva il rispetto della distanza di sicurezza tra i clienti e metteva in vendita beni diversi da quelli consentiti. Un altro si è visto sospendere l'attività. Anche i droni di Drone Arezzo stanno contribuendo ai controlli dall'alto, in questo caso, di quello che accade in città e dalla collaborazione tra questa eccellenza aretina ed il Comune di Arezzo ci potrebbe essere anche la possibilità di scansionare la temperatura delle persone che si trovano in luoghi pubblici per verificare se hanno la febbre o meno, grazie all'utilizzo di una termocamera.